Musica Marzo 2013, marzo 2014, un anno di attività qui a Villa Erizzo della Biblioteca Civica. Qual è il bilancio? Il bilancio è ampiamente positivo perché ci ha consentito un ulteriore radicamento in città portando utenza nuova, oltre alla tradizionale che frequentava via Milanese, sono arrivate le famiglie, un'utenza alla quale tenevamo in modo particolare. Ci stiamo lavorando con attività dedicate, stiamo portando per esempio i bambini, per quanto non abbiamo ancora una sezione dedicata a loro, ma prossimamente, con un ampliamento che dovrebbe partire a breve, avremo degli spazi dedicati ai bambini e ai ragazzi. E quindi vorremmo raggiungere questa utenza fondamentale per la crescita dei servizi bibliotecari e portare appunto famiglie e bambini a frequentare regolarmente la biblioteca. Accanto a queste attività tradizionali ce n'è un'altra di tipo prettamente culturale che riguarda non solo i bambini ma tutta la città. Sì, sono le attività, gli eventi, nonostante questa sede di Villa Erizzo abbia una saletta piccola perché contiene circa 50 persone, siamo riusciti a fare una programmazione molto intensa che ha portato di fatto a svolgere attività quasi tutti i giorni perché oltre agli eventi culturali, di incontri con l'autore, presentazioni di libri eccetera eccetera, abbiamo, ospitiamo corsi esterni, ospitiamo corsi di altri servizi ai settori del comune, quindi di fatto tutti i giorni c'è un notevole movimento di persone che frequentano la saletta eventi ma poi vengono anche in biblioteca. Un successo anche questo, importante, che dimostra la grande vitalità di questo servizio. Uno dei dati che dimostra appunto il successo di questo modo di lavorare è quello dei prestiti perché abbiamo raggiunto livelli molto alti, siamo oltre 65 mila prestiti annui. Se penso che quando ho iniziato ad occuparmi di questo servizio eravamo sotto i 30 mila, vedo questo numero con grande soddisfazione pensando che poi, soprattutto negli ultimi anni, il budget per l'acquisto di libri è diminuito in modo sensibile per le note problematiche che ci sono in questo paese, però ce la stiamo facendo anche grazie al contributo della cittadinanza che dona libri alla biblioteca in grande quantità. Devo dire che nell'ultimo anno sono stati donati quasi 15 mila libri alla biblioteca. Grazie.